Eh ma buongiornissimo giovani Questi capelli continuano a avere vita propria E oggi sarà un'altra giornata in cui le cose da fare sono un'infinità Avrò più cose da fare per i clienti che per me Però iniziamo anche questa giornata insieme Tanto una maffa colazione Sono così sveglio stamattina che ho registrato tutta la parte del butino proteico Che c'ho qua Dell'apertura, provate a fare simile smr E poi ho visto che è aspetto Buongiornissimo giovani di nuovo Comunque butino proteico, gusto caramello Questo è quello dell'Eurospin Ho fatto anche il video della spesa fitta edizione Lidl Per chi se l'hai perso se lo devo andare a vedere Perché è l'ignorantata tremenda, troppo bello Non so divertirlo troppo con mio cugino Lo dicevo ci sono un sacco di cose da fare oggi Soprattutto per dei clienti Perché mi ha chiamato il comune della mia città Per pubblicizzare un evento cittadino che si terrà tipo tra una settimana Questo è un lavoro che ho fatto anche due anni fa Per lo stesso evento, sempre per il comune della mia città Però mi devo fare una full immersion tremenda Perché tra una settimana c'è già l'evento Quindi iniziere a creare tutto il piano editoriale Il calendario editoriale Voi lo sapete, come ho detto anche nei video precedenti Io mi occupo di marketing e comunicazione Ma soprattutto video editing Per personal trainer, palestre e nutrizionisti online Però ti arriva un lavoro del genere Che ti chiama il comune della città tua Per farti pubblicizzare un evento Che fai? Dici no, namo? Mi sa che c'ho pure un altro appuntamento oggi Oggi c'è un bel po' di cose da fare Finisco di fare colazione al volo E ragazzi io mi devo mettere il computer Mi porto in questa giornata dove ci sta da fare il mondo Giovani, dopo due ore di full immersion Tremenda mi devo fermare un attimo Perché mi iniziano a bruciare gli occhi E si è giunto un altro appuntamento Alla giornata di oggi Di classissima Cioè questa giornata Soprattutto oggi pomeriggio Che dovrebbe durare tipo gli anni Gli anni interi Benvenuti nella mia vita Comunque in realtà sto lavorando su tante cose Però non sono affatto felice Di come sto lavorando io per me stesso Nel senso che sto pubblicando di meno Per quanto riguarda i blog E sto pubblicando il nulla più totale Per il mio canale di fitness marketing Che è il canale a cui tengo da morire Devo vedere di trovare il tempo in questi giorni Per riuscire a gestire bene le mie cose Perché non è semplice lavorare con gli altri E lavorare per te stesso allo stesso tempo Perché devi far combaciare tante cose Il problema di fondo è che Io cerco di portare Una maggiore qualità possibile Anche per i clienti Anzi a maggior ragione Più sono clienti Più cerco di lavorare Ancora meglio Se per me dico magari Ok questa cosa è fatta bene al 90% La posso pubblicare Per i clienti di essere pronta al 110% Per essere pubblicata O per essere inviata Tutto quanto Ho qualche serio problema Di perfezionismo Però facciamo fin da che non ci sia Mi fermo 10 minuti Se famo quasi quasi un bel caffè Damo se la carica nella maniera giusta Alexa Riproduci il 3 Ciao sono il 3 Ascolta la musica di De Mando Su Amazon Music Aledit Di classissima Giovani Sempre tv verità C'avevo da lavorare il mondo Però mi sono sentito un attimo Con un'amica mia Che c'aveva Un attimo Una crisi Una roba Quindi mi sono sentito tipo quasi un'ora Al telefono con lei E nel partimo mi sono preparato il pranto Comunque sì Io sono una di quelle brutte persone Che si sente ancora per telefono C'hai bisogno Io ti rispondo sempre Eppure se ho da fare 10.000 robe mie Secondo me se sei in crisi C'hai bisogno di qualcuno Come una volta che è successo a me Io rispondo sempre Allora Siamo fatti 120 grammi di riso basmati In bianco Con 10 grammi di olio E 15 grammi di parmigiano E questi sono 200 grammi di pollo Fatti in friccitrice ad aria E il caro Andrea Muzzi Che ci fa compagnia Quindi oggi giornata un po' crescita personale Giovani Pranzetto finito Giornata è proprio grigia fuori Comunque tra un'ora e mezzo Dovrei scendere di casa Per degli appuntamenti Quindi mi pare il momento Di farsi un attimo sti capelli E andarsi a mettere qualcosa di decente Giovani mi sono aggiustato un secondo Anche se sti capelli Continuano a stare per i fatti loro Ma va bene lo stesso Ho un altro pochino di tempo Mi rimetto un pochino al pc Perché mi porto avanti col lavoro Devo riprendere un po' di lavoro Che non sono riuscito a fare stamattina Giovani e poi finito I miei appuntamenti E piove Che bello È passato un cristiano senza casco Non si nota che sono al sud Comunque perdonatemi Se non posso farvi vedere troppe cose Però ovviamente Sto con i clienti Devo stare lì Mi devo concentrare Non posso fare troppe robe Poi tante cose Non posso né farle sentire Né farle vedere Perché giustamente C'è tutta la questione privacy In realtà adesso sto a morire di fame Devo tornare verso casa Che qua sta pure piovendo E se dovevo rimettere il computer Giovani e come ve lo spiego Che ho beccato un'altra mia amica Che stava in un'altra crisi E quindi siamo messi a parlare E quindi è passata un'altra ora E sono appena entrato All'interno dell'ascensore Devo ancora tornare a casa Mi devo cambiare Perché devo andare in palestra Per il mondo da fare Non so come farò oggi Siamo ready per la gym In realtà oggi abbiamo Delle belle gambine da fare Dopo che ci dobbiamo divertire Ci dobbiamo sfondare Già ho delle occhiaie tremende E menti che non è che ho passato Troppo tempo al computer Oggi tre ore Quattro ore siamo stati Ormai sono relative per me Cioè ormai Quello è proprio il minimo Stai tre ore al computer Cioè ormai Primo esercizio Sto già morendo Distrutto Io ve lo giuro Che pesantezza fare gambe Se affondi i bulgari Mi do ancora proprio il fiato E li sto facendo senza peso Sessanta target reps È da ammazzarsi E ho fatto solamente La gamba sinistra Devo ancora fare la testa Sono le 11.30 di sera Ho il 7% di batteria al telefono E sono veramente distrutto dalla vita E devo ancora cenare Sì classissima giovani Giuro mi addormenterei qui In macchina Ma ci dobbiamo alzare Namo Posso dire che difficoltà A scendere dalla macchina Molsi a rotelle Qui non c'è? Allora giovani Post workout Ci avemo 400 grammi di gnocchi Di patate Quella santa di mia madre Mi ha fatto trovare Una sovraccoscia di pollo Meno male Perché non me ne teneva Di cucinare pure il pollo E ovviamente La sovraccoscia È un pochino più grassa Raga Però sti gran cazzi E sempre quella santa di mia madre Mi ha fatto trovare Delle melanzane grigliate Adoro Allora queste sono le cose belle Di quando torni a casa Come dicevo prima Sono stato tanti anni fuori casa E meno male Te la devi vedere tu Per tutto Per qualsiasi cosa Soprattutto per il mangiare Però queste piccole coccole Sono una cosa fantastica Non hanno prezzo Giovanni Allora con il mio telefono Sottocarica Ci abbiamo 400 grammi di gnocchi Con 10 grammi di olio E 15 grammi di grana Che ho già mezzo girato Le mostre melanzane Non so bene quante ne siano Ma sapete che la verdura Non la conto Con una sovraccoscia di pollo Sarà un 100 110 grammi A cosa del genere Quindi secondo me Oggi abbiamo sforato Un pochino con i grassi Però va bene lo stesso Il caro Giovanni Foist Che ci fa compagnia E direi che mi pare È arrivato il momento di cenare Anche perché sono le Mezzanotte a meno 5 Sempre di classe Giovanni È mezzanotte a un quarto E io non posso neanche Docciarmi Perché ovviamente I miei stanno dormendo Per rispetto Ovviamente non Mi metto a fare la doccia Che faccio un casino Della madonna Quindi mi posso solamente Da Me lavo a sto video Quindi mi posso Da solamente una sciacquata Dal volo E domani mattina Mi vado a fare una doccia Ce l'avevo la forza Di scrivere un po' di diario Giovanni Mi pare è arrivato Il momento Di andare a dormire Sono abbastanza contento Di questa giornata Secondo me Potevo fare di più Dal punto di vista lavorativo Però è stata una giornata In cui ho dato di più Come amico Cioè Della teoria Oggi mi hanno chiamato tutti Quindi è stata una giornata Molto più relazioni amicali Però comunque Sono contento Ho chiuso due preventivi Oggi Quindi Ce la portiamo a casa Questi due lavori nuovi Quindi dai posso ritenermi Abbastanza soddisfatto Spero che le vostre giornate Anche stiano andando bene Oggi forse ho gestito Un po' male l'alimentazione Potevo gestirla meglio Vabbè Se vi è piaciuto questo video Lasciate un like Lasciate un commento Lasciate tutto quello che volete Sapete che mi fa solo Che piacere Dicevo i vostri commenti Anzi Sono contentissimo Delle persone che stanno commentando Sotto il video del supermercato Perché ripeto Per me è fondamentale Creare interazione Avere dei feedback In realtà oggi ho fatto anche Un'altra cosina Che ho fatto vedere Non l'ho fatto vedere Per i mini wellness Però non voglio fare Troppi spoiler Grazie per chi è arrivato Fino a questo punto del video Sapete che voglio Un bene dell'anima Questo dovrebbe essere Metà al cuore Ma è uscito Male Vabbè Comunque Io devo assolutamente Scappare a dormire Sto a morire E noi Se vediamo domani Ciao giovani 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 Ciao giovani